Servizio alla cittadinanza oggi tramite tre minuti grezzi perché udite udite vi dirò dove potete trovare quella cosa che avete perso non importa di che cosa si tratti non importa dove l'avete persa io vi dirò esattamente dove potete trovarla la troverete nell'ultimo posto in cui guarderete mentre cercate sì questa genialata l'ho letta da qualche parte non so più quando ricordo il titolo dell'articolo ecco come fare a trovare le cose che avete perso c'era una lista dove si spiegava come fare per trovare una cosa persa al primo posto mi pare ci fosse ricordatevi dove eravate quando l'avete usata l'ultima volta grazie c'era arrivata anch'io no veramente c'erano dei piccoli consigli più che altro di fare mente locale di non pensarci e poi c'era appunto la rivelazione che l'ultimo posto in cui guardiamo è il posto in cui è la cosa ma questo non significa che possiamo saltare i passaggi intermedi e andare direttamente all'ultimo posto per guardare direttamente là infatti ok dopo che l'abbiamo trovata la cosa smettiamo di cercarla e quando io perdo qualcosa cerco prima di tutto nelle tasche perché uso raremente la borsa poi nello zaino che uso quando mi porto dietro il computer poi quando non lo trovo né nelle tasche di tutte le varie giacche capotti eccetera pantaloni nelle borse allora comincia la ricerca frenetica nei posti dove sicuramente la cosa non è non dico che guardo dentro il forno e dentro il frigo però guardo nei posti dove so che sicuramente la cosa non è mai passata nemmeno lontanamente e devo dire che anche quando poi non trovo subito le cose non mi dispero perché ho avuto esperienze di oggetti cercati disperatamente ricomprati perché non li trovavo e poi invece trovati mi è capitato così con un paio di cuffie anche abbastanza costose di quelle che non trasmettono il suono tramite il padiglione auricolare ma lo trasmettono direttamente all'osso che c'è nella testa insomma una cosa un po' particolare cuffia che avevo pagato più di 100 euro e che non riuscivo a trovare da nessuna parte li ho cercate per tanto 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 tempo poi siccome mi servivano le ho riacquistate e dopo un po' che le avevo riacquistate mentre facevo il cambio dell'armadio ho messo il piumone del letto dentro uno di quei sacchi di plastica dove poi si toglie il coso con l'aspirapolvere mentre prendevo questo sacchettino di plastica mi sono accorta che per qualche motivo la cuffia era finita lì dentro e avevo voglia io di cercarla quindi ho speranza anche di trovare la mia penna che ho perso non riesco a trovare